La CGL è in contraparte della politica e si interroga sul PRG e sulla crisi abitativa, non solo valutazioni ma anche proposte. Sì, noi abbiamo fatto oggi questo confronto, abbiamo messo in campo questo confronto tra la CGL, alcuni consiglieri comunali, il sindacato degli edili perché vogliamo spronare l'amministrazione comunale ma la politica più in generale a fare di più rispetto a quello che si è fatto o meglio, di fare subito quello che si decide di fare. Noi siamo preoccupati perché l'amministrazione comunale ha, giustamente, noi non vogliamo polemizzare su questo, detto che vuole immediatamente far attivare i lavori per mettere in opera il PUA, ha detto che vuole subito attivare i lavori per fare in modo che entro l'anno si cominciano i lavori a Corso Marti delle Libertà, ha detto che vuole subito entro l'anno definire il piano regolatore, ebbene noi diciamo se queste cose si vogliono fare lo si facciano subito perché questa città non può più aspettare, mettere in cantiere queste opere può significare rilanciare, ricominciare, far muovere di nuovo l'economia attraverso l'economia edile, far lavorare tanti lavoratori che aspettano di lavorare, fare in modo che tante imprese possano essere messe al lavoro e in questo modo dare corso a quelle che sono il riassetto urbanistico della città che è una cosa importantissima per traguardare il futuro di Catania. Ecco, insieme a questo diciamo pure, però facciamo anche subito opere utili come la messa in sicurezza degli edifici pubblici e scolastici e il recupero dei centri storici perché questo è nel momento in cui c'è così alto il rischiosismico nella nostra provincia, nel momento in cui c'è bisogno di mettere in moto l'economia questi due fattori possono davvero da un lato attrarre turismo, dall'altro far lavorare la gente e far in modo che chi vive negli edifici pubblici e chi va a studiare nelle scuole possa essere sicuro di farlo in ambienti senza rischi. Per la parte politica presenti l'onorevole Concetta Rai, a parlamentare regionale e il consigliere comunale del PD d'Avola invitati al confronto ma assenti per altri impegni, anche il capogruppo del PD Rosario Dagada e la consigliera Francesca Raciti e il deputato nazionale Giuseppe Berretta oggi a Roma. La CGL sta ponendo questi temi e la politica li raccoglie. Noi ci troviamo di fronte al fatto che c'è un piano regolatore che ancora non è stato portato in consiglio comunale dopo tanti anni. Parliamo ormai di storia oppure di veramente, diventa una cosa non più attuale. Allora c'è l'esigenza che attorno al piano regolatore veramente si faccia una politica di rilancio ma se questo strumento resta ancora nei cassetti evidentemente non sarà mai uno strumento fruibile. Dall'altro lato, quindi noi diciamo che il piano regolatore immediatamente deve essere portato in consiglio comunale dall'altro lato vediamo che ci deve essere uno sviluppo serio che non parta dai soliti centri commerciali ma che parte invece dai centri commerciali naturali che rivitalizzi il centro storico e solamente in questo modo si può fare.